23 comuni da Altino a Gessopalena, da Rocca San Giovanni a Monte Nero Domo aderiscono al progetto di raccolta differenziata porta a porta di Ecolan, l'ex consorzio smaltimento rifiuti di Lanciano, costituito da 53 comuni. Il progetto, è stato detto nel corso della presentazione dal presidente Giampaffilo Tartaglia, si prefigge l'obiettivo del 65% entro l'anno, come previsto dal tasto unico ambientale. Tra quanti aderiscono al progetto ci sono anche quei comuni già virtuosi, come Faro San Martino, che registra il 73% di raccolta differenziata dati 2010. La raccolta porta a porta sarà affidata per sette anni alla ditta che risulterà vincitrice del bando, in portobase 12 milioni di euro, sulle quattro partecipanti. In ognuno dei comuni è stato detto inoltre che sarà attivato l'ecosportello, aperto ai residenti per garantire il contatto diretto con il gestore del servizio. Questi obiettivi servono per ridurre il quantitativo dei rifiuti che vanno in discarica e riducendo i rifiuti che vanno in discarica avremo una discarica che diventerà esclusivamente di servizio, non come è stato interpretato fino ad oggi, e permetterà a tutti i comuni di non avere problemi di smaltimento in altre regioni. Il rifiuto che alla fine arriverà in discarica dopo un processo di biostabilizzazione sarà un rifiuto secco che non ha odori, non ha problemi da un punto di vista igienico e ambientale e quindi non arricchierà danno a nessuno e non inquinerà ulteriormente la discarica. Restano fuori dal progetto comuni importanti come Lanciano e Atessa, che hanno la raccolta differenziata a ferma, l'una al 36%, l'altra all'11%. Da solo Lanciano conferisce in discarica 12 mila tonnellate di rifiuti l'anno, Cerratina concludono alla Ecolan ad oggi a capienza stimata solo per il 2012.